Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Yoke & Watch Italia Oggi abbiamo con noi le nuovissime Gnambo Quindi ovviamente un nuovo episodio di Shogu vs Gnambo La vostra serie preferita perché gli showcase di Noa fa un po' cagare Simone in realtà non glielo ho detto però insomma Insomma è il meglio Shogu vs Gnambo dai lo so che vi faccio come serie Abbiamo delle nuove Gnambo e stavolta sono delle Gnambo un po' particolari Perché abbiamo tutti ZZ che sono usciti fino a ora Abbiamo vabbè Suzaku Poi questa qua che non so chi è Shoot & Doji bellissimo Shoot & Doji estivo bellissimo Noa che andate a vedere i video di Noa L'altro Noa che è un booster ZZ bellissimo Questo qui che è un po' inutile effettivamente E andando a vedere i drop rate secondo me fa un po' schifo 0.2 si ci sono 9 Z però insomma Sono un po' così e abbiamo anche poi i rate di ZZ che sono comunque più alti Comunque oggi non sono da solo da sfruttare la Gnambo C'è anche questo bibu qui che se adesso parla puoi parlare per favore a farti presentare? Ma io vi dico a tutti ragazzi Eccolo eccolo qua Jackpot mi ha detto fai il video con lui poverino che dopo si sente escluso dal canale E quindi ho dovuto farlo con lui Perché tra l'altro la Gnambo che andiamo a sfruttare oggi l'ha shoppata lui Ragazzi perché Allora vi spiego cos'è successo Io volevo registrare Ho fatto le quest Ho registrato E non si è sentito la mia voce Ho bestemmiato Ho detto shoppa la Gnambo che facciamo il video E quindi è successo così Comunque adesso vi vado a dire le missioni Tutte molto incredibili Le missioni sono facilissime Io le ho già finite Vediamo un po' se me le fa vedere al massimo Poi ve le metto anche in descrizione Ok partono da qua perfetto Allora la prima missione è quella di fare il livello di vela nera senza continua Boss è molto easy lo battete subito Donare 30 spiriti agli amici Anche questa qua si fa velocemente Fare 300.000 punti o più nella scorata Anche questa qua è super facile La missione di fare bene 30 fever time Non è difficilissima ma è un pochino lunga Tu cosa ne pensi di queste missioni? Sono semplici? O sono un po' Sì dai sono semplici Magari quella un po' più impegnativa è fever Ma secondo me se vuoi andare a fare O anche di poliministro Sì lo fate Non scusate l'occhio E quindi è impossibile ucciderlo Secondo me potete fare tanti fever Soprattutto se metti il yukai Con i web web più vicini Cioè proprio quelli che ti O anche quelli che si linkano più velocemente E l'ultima missione è quella di fare 60 sfere bonus Adesso vi dico un po' di yukai che vi facilitano a creare sfere bonus Stato siamo anche da boost tax Perché per registrare questo pirla qua abbiamo dovuto fare una roba assurda E niente Allora Lui Questo S qui Che dovrebbe trovarsi Mi pare anche nell'evento che c'è adesso Io sto registrando Stiamo registrando nell'evento dei portali Però ve lo vedrete Nell'evento prossimo Quindi anche dopo la live Quindi non so Spammarvelo la live Perché Sarà anche dopo la live Questo qui Che facendo appunto Con il suo energy max Crea le sfere bonus Utilizzatelo E così Vi Velocizza la missione Un altro yukai con un altro energy max È la sirena Questa qui con i capelli grigi Si chiama sirena Sirena Non sirete come cagolo Si chiama E poi c'è un altro Altri due yukai Con la passiva Però Che hanno Le sfere bonus Fratosto Questo qui Che è maxato di passiva Dropa le sfere bonus E poi un altro Che droppa le sfere bonus È Coros SS Eccolo qua Il mitico Sì anche lui Coros SS Oggi volete anche il Dandory Quello Dark Sì anche Dandory Z Alla passiva delle sfere bonus Sì E quindi Fate qui Elencate le missioni Comunque se non avete capito Sono in descrizione Andiamo a sottare Andiamo Sei pronto a sottare Però non è che apriremo subito Non andiamo a pri Prima andiamo a sottare un po' di con Andiamo a dare i soldi al vecchietto Che però mi sa che ho già dato Ragazzi Eh L'ho già dato il soldo al vecchietto Niente 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 Eh no Il vecchietto mi ha aiutato Eccola qua Andiamo a dare i soldi al vecchietto E' più contenutistico Ci andiamo dal piede tipo Un paio di monetieri di Emma Che possono Trovare massimo un SS Però sono roba interessanti Attenzione vai Il primo sottato Subito Biglia rossa No Due Era un segreto Adesso ci sono le sfere Vero Un po' Un po' Andiamo con Prendiamo con la Moneta di Di Nanatsu Allora se capita Lo ZZ Il meglio L'assassalt mod Eh Però che è il segreto Io preferisco un segreto Ti dico la verità Sì sì Vabbè Ma tanto li abbiamo tutti Vai Attenzione Vi adoro Eccola E' lui E' lui o non è lui No Eh lì Va bene Va bene Sarebbe stato Va bene Tanto si sa Sarebbe stato più contenutistico Sarebbe stato più contenutistico Dell'Andiamo un po' stesso Così non va bene Ci dobbiamo sottare anche questa Moneta G3 Sì Così Sono un po' inutili Però noi li sottiamo Biglia rossa Niente lui Ok Niente Niente Ma senti Ma aspetta Prima di andare Ce la facciamo una singola Dai una Una singola Tanto il prossimamente Farmabile Dai una singola Dai una singola Vai Una singola ce la facciamo Anche perché ci manca ancora uno z Eh ma che riesci adesso Così facciamo doppio z No Vai Attenzione No Niente Scammato Niente Niente Ok dai Allora andiamo a sottare la gnambo Che la fortuna sia con noi Lasciate like Sì sì Lasciate Anche per i miei 4 euro che sono volati Eh Eh Lasciate like Io gli ho detto Non shoppate la gnambo ragazzi Perché Ma me l'ha detto lui Non è vero Io ho detto non shoppate la gnambo ragazzi Che sono una scammata assurda E poi scoprite che lui mi chiede in privato Eh Steffi Una volta l'ho fatto anch'io me ne sono pentito Però va bene Dai andiamo a sottare Attenzione Troviamo una sss E tanta roba Sì Oddio che cazzo di so a te Non apriva subito Non apriva subito È un pochino ambigua Ci sono gli arcobalini Le stelline Dimmi tu quando Vado Però lasciate il like Ragazzi Lasciate No siete cattive persone Lasciate il like E seguiteci Su Instagram E anche il gruppo Telegram Sempre in descrizione Vai Vediamo un po' Attenzione Ha laggato leggermente Vediamo un po' Whisper Dai Cacciami noa Cacciami noa No Ho visto l'Aureola Dorato Ho detto Oddio cos'è E invece E invece E invece il cane E il cane Quindi ragazzi Alla fine avete scoperto Che quei 4 euro lì Eh Lasciuppati Lasciuppati Cosa Quindi Mi chiedo Che lui Anche lui Lasciuppare 4 euro Eh Sì Comunque vi ridico Velocemente le missioni Se le ritrovo Molto Eccoli qua Sono Rifai lo stage Di vela nera Senza continua Dona 30 spiriti Agli amici Fai 300.000 punti O più Nello scorata Facile 30 fever E 60 sfere bonus Facendole tutte Poi vi daranno La niente Non sapete come dare 60 sfere bonus Fatevi tantissimi account Spendete anche 3 ore di tempo Ma almeno alla fine Era fatta No Comunque Sono facili Comunque le sfere bonus Si prendono anche Facendo un punti da 7 Sì 7 in su Ovviamente Possono droppare Anche senza quelli Ok Però un po' più difficili Un po' più difficili Sono Con il yukai Che ho detto prima Con l'S Il triple S Eccetera Anche il dandori Z E il dandori Z è fortissimissimo Anzi se mettete Anche tutti quelli In team Meglio ancora Quindi ragazzi Questo era Era la slot di Shugo Versus Niamo il periodo speciale Perché Dovrei essere solo io Ma c'era anche lui Quindi Teniamoci anche lui E niente Iscritto al canale Attivate la campanella E noi ci vediamo Comunque sia PS Due cose Uno arriverà Due cose Ossicamente Un altro Gnando E' vero Quella Quella del nuovo evento Però lo fanno da solo Io vi dico una cosa Avrete già visto il video Dello staff Versus score Però io vi dico questo Chissà Se Ci sarà Un buono score Chissà se Speriamoci no Sono brutti i suoi video Sono più belli i miei Con no Esclusivo Sono più belli i miei Fatti con l'acconto esclusivo Vabbè dai Ci vediamo Ci vediamo Eh sì Ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Bye bye